Allora, arriviamo a mezzo chilo 560 grammi dai 500 ai 600 grammi e mettiamo cadenza per litro e ora cadenza ci mettiamo una bottiglia di alcol a 95 gradi alcol buono della borsa, figlia notte e non parliamo per dente comunque niente questo qua che facciamo? lo mettiamo a scuro per 105 giorni 40 questo è proprio un misto per favore buono è buono ogni 15 giorni ci vuole una scuazzata che ci roba? dopo che facciamo? ci mettiamo l'acqua con il zucchero 500 grammi di zucchero c'è un litro d'acqua e aggiungiamo e la prossima anno non beviamo per quanto vuole a presto saluto a tutti gli immigrati saluto saluto Grazie.